Sbarre alzate, casse impacchettate, numerosi cartelli che avvisano che il parcheggio è momentaneamente libero, quindi gratis, causa guasto. Sembra quasi una bella notizia per i fruitori, non moltissimi per la verità, del Park Miani di fronte al Tribunale di Treviso, gratuito ormai da oltre un mese. In realtà il guasto è stato provocato da un furto messo a segno il 6 settembre. Un uomo ripreso dalle telecamere è entrato di notte nel vano delle casse, scassinandole e danneggiando l'intero impianto elettronico che regola le sbarre d'accesso ed il pagamento. E ripararlo non è cosa semplice, trattandosi di parti di un impianto che ha oltre 20 anni. Ci siamo già attivati per la riparazione compatibilmente con le tempiste tecniche del reperimento delle tecnologie che molte volte arrivano dalla Cina e quindi non è semplice. Ricordo che abbiamo atteso tre mesi la centralina di un semaforo che era assaltato in occasione di un fortunale, quindi non è certamente volontà dell'amministrazione lasciare il parcheggio così libero. È altrettanto vero che stiamo tra l'altro cercando di individuare i responsabili di questo atto vandalico perché quella è la parte più grave, non tanto il fatto che non arrivi il pezzo di ricambio. Quel che per ora è certo è che il bottino del furto, 7.000 euro, non è il problema maggiore e mentre le forze dell'ordine indagano per risalire all'autore dei danneggiamenti sul Parc Miani, mai decollato come parcheggio scambiatore e dal destino quanto mai incerto, si abbatte ora questa nuova tegola.